L'Unione Idea Technologies è un'azienda che supporta l'azienda nella tradizione verso l'economia circolare, nello specifico nel settore informatico, per quello siamo la prima azienda europea di servizi ambientali certificati nel settore informatico. La nostra azienda ha un pacchetto dedicato che si chiama gestione sostenibile che funziona in tre modi. Il primo è il supporto nelle aziende in fase di acquisto di prodotti informatici, il secondo è il supporto nelle aziende in fase di vendita dei loro vecchi asset dismessi, in modo di evitare lo smaltimento e la terza azione concreta che facciamo è la certificazione di entrambi i processi. La nostra sfida è dimostrare scientificamente che l'economia circolare migliora l'impatto ambientale delle aziende e appunto per quello lo facciamo con la prima suite europea che garantisce questi servizi. Tante grazie.